Nessun allarme per la febbre suina H1N1 e dunque no ad allarmismi, così il servizio di prevenzione dell'asla provinciale dell'Aquila sul caso della donna deceduta a Sulmona in seguito alla malattia. Si tratta di una patologia, dichiarano i medici, che si manifesta con le caratteristiche dell'influenza che si trasmette per via aerea. In genere attecchisce su soggetti in stato di debilitazione con difese immunitarie basse. L'esistenza di condizioni di degrado igienico-sanitarie inadeguate può sicuramente costituire un habitat favorevole all'insorgenza del virus. Il vaccino per l'influenza stagionale, proseguono i medici della prevenzione guidata dal dottor Domenico Pompei, può contribuire ad alzare le difese contro il virus H1N1. L'insorgere dei casi del tutto sporadici, che allineano quasi sempre su persone con difese indebolite, rientra nel dato fisiologico della possibilità di trasmissione della malattia. L'ASL, come misura immediata e basilare, ha attivato tutte le procedure necessarie per gli accertamenti del caso. Allo Stato comunque la situazione è sotto controllo e non desta preoccupazioni.